Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio parlarvi di un nuovo metodo per guardare film in italiano gratis in streaming. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Ormai lo sapete che cerco sempre di inventarmi nuove soluzioni per poter evitare di pagare abbonamenti di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e quant'altro, trovando ogni volta delle soluzioni gratis per poter usufruire dei contenuti online. In questo caso ne ho trovata una veramente sensazionale perché sto parlando di YouTube che è alla portata di tutti, tutti possono accedere e quindi si possono guardare film su YouTube gratis in italiano e legalmente. Sappiamo benissimo che sul tubo ci sono moltissimi film a pagamento ed anche alcuni canali che caricano illegalmente molti contenuti come film e serie tv, spesso divisi in parti per evitare di farsi beccare dall'algoritmo. In questo caso però voglio parlarvi di un canale che ha l'autorizzazione per mettere questi contenuti online e quindi si potranno usufruire gratis sul tubo e soprattutto senza dover pagare nessun tipo di abbonamento ma senza neanche doversi iscriverà il canale per forza. Per poter vedere quindi tutti i film in maniera gratuita su YouTube basterà digitare nella barra di ricerca il nome del canale ovvero MovieDomIt che come potete vedere è un canale nato di recente, si parla del novembre 2022. Ma perché nello specifico questo canale YouTube può caricare i film e non cadere in violazioni del copyright? Semplicemente perché questo canale YouTube è di proprietà della Palion Picture, società che detiene un catalogo di titoli internazionali. Nella sezione playlist di questo canale potrete trovare per ora tre playlist, una dedicata ai miti, eroi e leggende, un'altra ai film a tutta velocità e l'ultima dedicata ai film di guerra che si chiama Sul campo di battaglia. Nella sezione in cui ci sono invece tutti i video in generale si potranno consultare proprio tutti i titoli a disposizione e c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Per ora ci sono solo una trentina di film a disposizione ma non preoccupatevi perché questa società detiene i diritti di tantissimi tantissimi contenuti diversi quindi sono sicuro che ne caricherà tanti altri. Anzi la società ha già annunciato che mensilmente o addirittura settimanalmente caricherà nuovi contenuti. Io spero di avervi fatto conoscere un nuovo metodo per guardare film in streaming in italiano e soprattutto legalmente su youtube ma lo sapete già per qualsiasi altro dubbio o domanda sezione commenti sempre aperta.